di luciano somma lassata sta si pensate che i soldi sulla mente può ne dà salute gioia e ricchezza lassata sta non importa non fa niente non leggite questo libro è una schifezza facetelo restare in la vetrina passate a niente non ve lo curate non ne ha ricette per una maricina perciò sentite a me non l'ho accattato grazie a tutti